Cocio Steffè, fine di gara 5, vince Omegna, complimenti a loro, com'è andata intanto questa partita? Partiamo dal fatto che Omegna ha giocato meglio, si è meritata questa vittoria, è stata una bellissima semifinale dove entrambi le squadre hanno dato il massimo, dove siamo sempre stati sottolineuti dal pubblico, per la canestra, bello hanno meritato perché sono stati più bravi a trovare delle soluzioni in attacco con continuità è difficile vincere una partita fuori casa facendo segnare 94 punti all'avversario abbiamo commesso purtroppo dei errori banali difensivi, bisogna essere onesti cose che ti tagliano le gambe, ogni qualvolta ci siamo riavvicinati per impattare la partita sul meno uno l'abbiamo commesso un errore banalissimo a livello difensivo loro da questo hanno trovato sicurezza e poi hanno fatto canestro con continuità ogni piccolo nostro errore veniva punito è stata una stagione bella dal punto di vista di crescita questi ragazzi mi hanno insegnato molto e io personalmente come uomo, prima che ero allenatore, ho imparato tanto da loro vi ringrazio da profondo del cuore, ringrazio uno a uno tutti quelli che sono venuti a vederci a sostenerci, che li hanno applauditi fino alla fine e sono venuto ad abbracciare i ragazzi in campo avevamo l'ambizione di fare questo grande salto non ci siamo riusciti ma sicuramente ci abbiamo messo al cuore grazie a tutti grazie a tutti